Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un argomento a cui tengo particolarmente nell'ultimo periodo, ovvero lo svezzamento. Questo perché Leonardo tra un po' compirà sei mesi e quindi durante tutto questo periodo ho cercato di documentarmi quanto più potevo e di leggere tantissimo in modo tale da farmi un'idea mia che da poter affrontare il migliore dei modi questa tappa così importante della vita di mio figlio. Analizzando un po' alcuni fattori sicuramente ritengo che l'approccio che maggiormente si avvicina al mio stile di vita, al mio modo di vedere le cose è lo svezzamento non tradizionale, quindi il cosiddetto autosvezzamento. I motivi che mi spingono verso questa scelta sono diversi, in primis sono contraria all'utilizzo di pappe pronte o di preparati che si trovano facilmente nelle farmacie o parafarmacie. Questo perché ritengo che non ci danno un valore aggiunto, cioè non ci danno dei valori nutrizionali che possano essere migliori rispetto ai cibi che si trovano normalmente sulle nostre tavole, soprattutto se questi sono per la maggior parte freschi, sani e fatti in casa. Inoltre penso che come qualsiasi altra tappa dello sviluppo anche questa sia assolutamente soggettiva e quindi non vi sono delle regole generali che devono andare bene per forza per tutti i bambini ma vi sono delle differenze sia a livello di tempistica sia di scelta degli alimenti che dipendono assolutamente da bambino a bambino. Per di più non ci sono degli studi che attestano che quello che è stato fatto fino adesso, ovvero lo svezzamento tradizionale sia il miglior modo per agire e per proporre il cibo al bambino. Di sicuro chi si vuole approcciare a questo tipo di svezzamento ha bisogno di tempo e di pazienza. Tantissima le mamme che vogliono autosvezzare i propri figli, ovvero le mamme che vogliono che i bambini si autosvezzino devono avere tanta pazienza e di sicuro devono essere presenti. Dover delegare un'altra persona in questo compito, così non sempre approvato da tantissimi, risulterebbe difficile. Iniziamo col dire che cos'è l'autosvezzamento, o meglio chiamato alimentazione complementare. È un processo graduale attraverso il quale il bambino, quando è pronto, inizia ad assaggiare altri cibi che sono diversi dal latte. Quindi la differenza sostanziale tra lo svezzamento tradizionale e l'autosvezzamento è che il latte non viene sostituito direttamente, non viene eliminato un passo con il latte per dare un passo solido, ma è un processo graduale. Quindi il bambino inizierà ad assaggiare i primi alimenti, i primi cibi che sono diversi dal latte. Questi assaggi poi nel tempo diventeranno sempre più grandi, quindi di quantità più consistenti, fin quando le poppate che sono vicine a questo passo in cui lui tende ad assaggiare, tenderanno ovviamente a diminuire fino a scomparire. Quando è meglio iniziare? Ovviamente è importantissimo osservare il proprio bambino, perché è lui che vi farà capire quando sarà pronto. Molto spesso ci sono mamme che dicono, quando noi siamo a tavola, mio figlio scalpita come se volesse le nostre cose, come se volesse provare, come se volesse prendere. Quindi vostro figlio ve lo farà proprio capire, vi farà capire un certo entusiasmo e una certa voglia di voler afferrare quello che voi avete davanti ai vostri occhi, quindi a tavola, che per lui in quel momento è anche un gioco, perché vede qualcosa comunque di diverso davanti a voi che poi mettete in bocca e fate scomparire. Quindi per lui è anche un gioco inizialmente e quel gioco poi gli farà scoprire un modo differente di alimentarsi. Normalmente però lo svezzamento dovrebbe iniziare dai sei mesi in poi, questo perché durante quel periodo più o meno si vengono ad eliminare alcuni riflessi involontari del bambino. Ovvero uno di questi è proprio quello in cui quando noi avviciniamo qualcosa alla bocca, lui tende ad aprirla, quindi a spalancarla e a cacciare la lingua. E quindi si attiva una serie comunque di movimenti che fanno sì che il bambino possa anche deglutire nel migliore dei modi. Ma vi ripeto che comunque anche in questo caso c'è una soggettività molto forte, così come ci sono bambini che parlano con tempi differenti, che camminano in tempi differenti, e noi abbiamo più o meno un range di tempo in cui tendono a fare più o meno queste cose, ma non tutti lo fanno nello stesso periodo, così lo stesso discorso vale anche per lo svezzamento. Ci saranno magari bambini che presteranno, cioè che mostreranno una certa curiosità nei confronti del cibo, magari prima di sei mesi, e bambini che lo faranno magari abbastanza dopo. Bisogna però assecondare le richieste del bambino e cercare comunque di capire quando è il momento adatto per offrirgli il cibo e quando il bambino è pronto. Se ancora non siamo sicuri che il nostro bambino sia pronto e quindi non gli vogliamo dare così tanta fiducia, dobbiamo osservare i tre segnali. Il primo di questo è che lui sia seduto da solo e che tiene dritto la testa. Il secondo è che riesce a coordinare per bene le manine, le braccine, gli occhi, la bocca, e abbia la capacità di prendere qualcosa davanti a lui dal tavolo e portarselo alla bocca. Il terzo segnale è la capacità di glutire il cibo. Quanto cibo dare ai nostri figli? Questa è una delle tante domande che ovviamente le mamme si fanno, cioè come faccio io a capire quando lui è sazio? I bambini hanno la capacità di autoregolarsi, così come quando allattate esclusivamente al seno e quindi assecondate la sua richiesta, la stessa cosa dovete fare con il cibo. I bambini sanno quando sono sazi, di certo il nostro figlio non vorrà morire di fame e lui sa benissimo come farsi sentire quando ha fame. Quindi non abbiate paura, ci sono bambini che mangiano di più, bambini che mangiano di meno, magari ci saranno dei giorni in cui mangerà di più e dei giorni in cui mangerà di meno, ma cercate di assecondare la sua richiesta sempre anche con il cibo. Non obbligate mai i vostri bambini a mangiare, non forzateli e non cercate di distrarli per farli mangiare attraverso giochi oppure utilizzando altre tecniche differenti, tipo rumori strani, il telefonino, la canzoncina, eccetera. Quando si mangia, si mangia e i bambini non dovrebbero essere distratti. Se vostro figlio non vuole mangiare e vuole giocare, a parte che non presta nemmeno attenzione a quello che gli state dando e lo trovo veramente molto triste, magari nemmeno assapora quello che gli state proponendo e mangiare anche per noi adulti è mangiare di gusto, non vedo perché per il vostro figlio dovrebbe essere diverso. E poi noi per primi sosteniamo che stare a tavola e mangiare deve essere un piacere. Sicuramente anche voi vi irritereste se qualcuno vi forzasse a mangiare qualcosa che non volete o qualcosa che non vi entra più. Sarebbe veramente irritante e non vedo perché voi invece lo dovete fare ai vostri figli. Quindi stare a tavola, mangiare, è un momento di gioia, di selenità, di condivisione e quindi è così che anche i vostri figli dovrebbero viverlo. Inoltre questi attreggiamenti potrebbero provocare non soltanto stilità nei confronti del cibo e quindi iniziare a vivere il rapporto con il cibo assolutamente in maniera errata e scorretta ma in casi più gravi questo può provocare disturbi alimentari in età avanzata. Cosa devono mangiare i vostri figli? Quello che mangiate voi, senza alcuna differenza. Ovviamente magari prestando delle piccole attenzioni per adattarle soprattutto nei primi periodi alle esigenze di vostro figlio. Ma soprattutto l'importante è che siano cibi sani e cibi freschi. Voi avete la responsabilità di scegliere la qualità del cibo che gli offrite e la variabilità ma sarà lui poi a sceglierne la quantità. Ricordatevi che voi siete gli unici responsabili dell'alimentazione di vostro figlio, delle scelte alimentari e anche delle sue future abitudini alimentari. Quindi è bene iniziare fin da subito con un'alimentazione che sia quanto più sana e varia possibile. Dopo questa piccola premessa generale, circa l'autosvezzamento, voglio farvi vedere quali sono i libri che ho letto in questo periodo e quelli che assolutamente vi consiglio di leggere. Allora, il primo libro che ho letto è il libro di Marco Bianchi, Noi ci vogliamo bene. Questo qui. Noi sappiamo benissimo che Marco Bianchi non è un medico, ma ha scritto questo libro in collaborazione con altri medici, e quindi le informazioni che lui ci dà sono assolutamente attendibili. Attraverso questo libro lui ci parla della sua esperienza, dello svezzamento di sua figlia e delle sue scelte che sono assolutamente naturali. Ci propone anche una serie di ricette che possono essere fatte ai bambini con la variante anche per gli adulti, perché la sua idea, e anche la mia, è quella che i bimbi e i grandi devono mangiare assolutamente le stesse cose. Infatti, alla fine della pagina, alla fine appunto del libro, troverete una serie di ricette che sono veramente ottime e che sono adatte a tutta la famiglia. Il secondo libro che ho letto è invece questo di Lucio Fermiadini, il quale è un medico, un pediatra, che vi spiega maggiormente attraverso appunto la visione di un pediatra che la vede in maniera magari completamente diversa rispetto alla maggior parte dei pediatri, sostenitori dello svezzamento tradizionale. Lui, in maniera molto semplice, ci spiega il perché e come approcciarsi all'autosvezzamento e quali sono i dubbi e le paure e anche le problematiche che spesso si devono affrontare, soprattutto nel primo periodo, e le tantissime domande che le mamme si fanno. Non ci sono ricette, perché lui non vi vuole dire come dovete fare, ma vi vuole spiegare il perché, vi vuole dare tante risposte alle vostre domande, quindi alle domande che solitamente le mamme si fanno, e lo fa assolutamente nel migliore dei modi, e poi la visione appunto di un medico, di un pediatra, come vi dicevo prima, quindi ve lo straconsiglio. E il libro è Io mi svezzo da solo, di Piermarini. Terzo libro che ho letto è Io mangio come voi. Questo libro è stato scritto praticamente da un gruppo di ricercatori dell'Università di Ricerca sui Servizi Sanitari e la Salute Internazionale, e tra questi ricercatori ci sono tantissimi medici, nutrizionisti, pediatri, biologi, e tantissime mamme che hanno portato la loro esperienza attraverso tantissime ricette che hanno lasciato in questo libro. Qui trovate anche una piccola leggenda in cui vi dice, per esempio, se in questo alimento, se questo è un pasto in cui c'è grano, se c'è la carne, se ci sono le verdure, se può essere, per esempio, frullato o se è da finger food, quindi preso con le mani. Le varie ricette sono suddivise in merenda e colazione, primi piatti, secondi piatti, e anche piatti unici. L'ultimo libro che voglio consigliarvi è quello di Andrea Re, ovvero Autosvezzamento per tutti. Andrea Re è un papà che ha iniziato a interessarsi e dello svezzamento e dell'alimentazione per i bambini ed è cofondatore e gestore di un sito che è Autosvezzamento.it. Come appunto dice lui, l'idea di scrivere Autosvezzamento per tutti è nata per aiutare i miei genitori a capire meglio cosa sia veramente l'alimentazione complementare a richiesta e perché sia davvero per tutti, anche per i genitori più timorosi e meno avventurosi in cucina. Questo libro si divide in due parti la prima parte in cui ci parla dell'autosvezzamento e la seconda parte dove invece vi sono tantissime ricette anche in questo caso per tutti quindi per tutta la famiglia. Inoltre la prefazione di questo libro è curata da Lucio Permarini che è l'autore invece di Io mi svezzo da solo. Tra l'interno di questo libro c'è una parte molto importante che parla del rischio di soffocamento nei bambini e quindi anche soltanto per questo motivo io vi consiglio di acquistarlo. Io per prima sono una grande sostenitrice dei corsi di di sostruzione infantile ne ho seguito infatti uno che è un mini corso che mi ha dato delle regole di base e mi ha fatto vedere appunto le manovre per nel caso in cui ci sia soffocamento quindi invito tutte le mamme ma soprattutto le famiglie a seguire corsi del genere perché bisogna comunque trovarsi preparati per poter prevenire il peggio. l'ultima parte del libro vi sono anche in questo caso tantissime ricette tra i tanti libri che io ho letto sicuramente quello che vi consiglio di più è l'ultimo vero di farlo abituare a quella situazione nello specifico però Leonardo ha già mostrato un certo interesse nei confronti del cibo infatti non vi nego che qualcosa l'ha provato ha provato i broccoli il porridge di zucca la banana e ieri sera la vellutata di cavo voi comunque sapete benissimo che io ho sempre fatto uno stile di vita molto sano e mangio sempre in maniera molto equilibrata però nell'ultimo periodo proprio in vista dello svezzamento di Leonardo ho rivalutato un po' la mia alimentazione le mie scelte alimentari soprattutto perché mi sono resa conto che effettivamente sulla mia tavola spesso ci sono i soliti 4 alimenti che si presentano con alternanza quasi regolare un po' per pigrizia un po' per abitudine fondamentalmente tendo a variare molto poco e questo non va bene per Leonardo che in questo momento si sta approcciando al cibo al cibo al cibo solido e che quindi deve avere a disposizione una variabilità molto più ampia e pertanto ho deciso di variare il più possibile la mia alimentazione e di scegliere in maniera molto più accurata la qualità del cibo che presenterò sulla mia tavola proprio per avvicinarmi quanto più possibile alle esigenze di Leonardo in questo periodo molto particolare che è lo svezzamento una scelta particolare come vi dicevo alla qualità degli alimenti ad alimenti che ovviamente devono essere sani come vi ho già detto e soprattutto sicuri per mio figlio diciamo che adesso ogni volta che vado a fare la spesa magari voglio comprare qualcosa di diverso la prima domanda che mi faccio sempre è questo prodotto lo farò mai mangiare a mio figlio? se la risposta è no allora vuol dire che non devo mangiarla nemmeno io proprio perché io voglio essere per lui un esempio da seguire ma soprattutto voglio che Leonardo viva lo svezzamento e l'alimentazione in generale in maniera molto serena ciao 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 Grazie a tutti